Imprese che resistono Regione Campania www.impresecheresistono.org organizza per sabato 29 marzo alle ore 10 all'albergo Ariet di Limatola in via Sant'Antonio un'assemblea regionale delle imprese che resistono. Partecipate numerosi e un incontro importante, parleremo di crisi e sviluppo per le imprese che resistono, quali prospettive. Vi aspettiamo sabato 29 marzo alle ore 10 all'imatola albergo Ariet.